...in luoghi più spesso, ci sono cani coraggioni e ben gestrati, vengono indiegati quando c'è bisogno del loro culto e della loro agibilità. Il pubblico di ragazzini applauta. I cani mostrano di divertirsi come se giocassero, ma in realtà, anche per questi quadrucani, si tratta di un lavoro per azioni di soccorso, che senza di loro sarebbero impossibili. Bravissimo! La città economica...